Domenic dei Terraros, una musica particolarmente legata al territorio, al nostro sud, al nostro Salento. Il messaggio che volete dare? La musica che facciamo non è legata, è proprio il territorio. In realtà è proprio la musica del territorio. Il messaggio che vogliamo dare è il messaggio di genuinità, come genuino il nostro territorio, di semplicità e di divertimento semplice, senza l'aiuto di niente e di nessuno, ma solo del proprio animo, quello che viene viscerale, quello che viene proprio dalla terra e dal mare. L'animo nostro, fondamentalmente. Una musica popolare, vicina alla gente per la gente. Questa sera un grande bagno di folla, musica nei vicoli, all'insegna del divertimento, dell'arte, della pittura, dell'enogastronomia. Sì, questo secondo me è il metodo migliore per portare un po' di arte in giro per il paese, perché la gente ultimamente al museo non ci va, perché è troppo lontano, perché abbiamo i telefonini e tutte le cose. Fanno bene i ragazzi a portare il museo in piazza, dove la gente c'è. E questa è una cosa fantastica, noi gli facciamo i complimenti. Bene, bene così, benvengano queste manifestazioni. Grazie a tutti.